Bene, salve a tutti, benvenuti a questo nuovo update, Marco Casario qui e cominciamo ragazzi con alcune richieste che nella diretta di oggi, sapete, tutti i giorni alle 13.40 su Instagram, YouTube e Facebook ho la mia diretta in cui Trading Today si chiama, in cui facciamo un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo sui mercati, non facciamo solo analisi tecnica ma guardiamo anche i mercati da un punto di vista economico e macroeconomico. Bene, oggi non c'era stato tempo perché mi avevate chiesto un paio di analisi e voglio farvele qui in questo momento, una di queste era sulla materia prima del caffè e quindi andiamo a vedere che cosa succede sul mercato del caffè. Il mercato del caffè vedete ragazzi è entrato in un momento ribassista che ormai è prolungato perché c'è stato questo primo impulso, ritracciamento, secondo impulso che va sotto la media a 200 periodi, torna sopra il prezzo e usa come resistenza leggermente la media a 200 periodi che ha bucato ma soprattutto la media a 8 periodi che nel frattempo aveva, vedete, scavallato quella a 21 e poi altro impulso ribassista. Ritracciamento, guardate qua, con grande carica di volatilità, il prezzo arriva sulla media a 8 periodi, 7 periodi esponenziali e ripassa, la usa come resistenza e ripassa sotto. Siamo sicuramente in un momento ribassista e attualmente che c'è di importante qui da analizzare? C'è sicuramente questa struttura, vedete che è stata usata come supporto una volta a maggio, due volte ancora a maggio, a giugno, fine giugno e il prezzo sembra proprio ci si stia dirigendo di nuovo. Vedete, dopo questo primo impulso il prezzo è tornato indietro anche con molta volatilità e adesso bisognerà vedere se questa struttura intorno ai 95 e 25 dollari regge o se il prezzo invece romperà al ribasso. Attualmente non vedo nessuna possibilità di entrata, almeno per le mie regole, per il mio trading plan, perché qui le entrate ragazzi c'erano in questo momento, questa era una bellissima entrata secondo me, short, con rottura del potenziale trend continuation dell'ABCD pattern, che infatti poi si è completato, questa era l'entrata perfetta anche da mie regole, non sono entrato perché in realtà sul caffè sto, e ve lo faccio vedere da qualche parte, eccola qui, sul caffè ne parlavo nella trading room con i ragazzi, aspettate che adesso vi metto l'operazione, c'è un'operazione in spread trading che avevo sott'occhio e che stavamo controllando, eccola qui, KC, e guardate, dicevo proprio ai ragazzi della trading room con gli studenti dove segnalo la mia operatività, quello che faccio ai vari ragionamenti sulle mie strategie, che qui ci sono dei livelli di attenzione, quindi non sono entrato, per fortuna tra l'altro, quando è iniziata la stagionalità, la stagionalità è lunghissima, e il prezzo infatti è tornato indietro, vedete è andato a reinsistere su questi livelli, poi il risceso adesso sta tornando, e io lo sto aspettando al varco, qui potrebbe formarsi un 1, 2 e 3, che quindi poi potrebbe rompere la neckline del punto 2, questa potrebbe essere una modalità di ingresso, io credo di fare un altro tipo di ingresso, ma solo per dirvi, non sto sul caffè, sul future, perché sto valutando l'entrata sullo spread, anche per abbassare un po' la volatilità, questo spread è dicembre-maggio come scadenza, e quindi ci siamo fatti il caffè, come si suol dire, mi avevate chiesto anche il natural gas, natural gas, andiamo a vedere che cosa sta facendo, anche il natural gas, ragazzi, ha fatto un grande rimbalzo dopo questo impulso nuovo ribassista, vedete qua, resistenza utilizzata sulla media a 200 periodi, prezzo che rompe questa struttura che era stata usata come supporto nel passato, fa un nuovo minimo, e poi risale, risale dove? Risale sulle medie esponenziali, quella a 7 e quella a 21 periodi, e poi riscende. Anche qui per me entrare adesso è complicato, non ci sono segnali, non ho segnali, quello che potrei fare è valutare o un'entrata con le opzioni, e quindi potrei con le opzioni pensare di, se si rialza la volatilità implicita, questo aspetterò, allora in quel momento posso valutare un ingresso con delle strategie a credito, dove il premio lo incasso, perché a credito, perché se la volatilità è alta, il premio è alto, e quindi mi viene pagato un bel premio, un buon premio per entrare a mercato. Per adesso di volatilità non ce n'è tanta, aspetto un'accelerazione o verso l'alto o verso il basso per impostare una opzione, magari poi la vedremo qua sul canale. Vi lascio anche a questo punto alle altre due o tre analisi che ho fatto durante la diretta, abbiamo parlato del cable, abbiamo parlato di euro yen, abbiamo parlato anche di un'azienda italiana che lavora nel settore delle energie rinnovabili, in realtà dei dispositivi elettrici, e quindi andiamo a vedere queste cose. Vi lascio allo spezzone di analisi tecnica della diretta di oggi. Ragazzi, noi ci vediamo qui sul canale YouTube, ci vediamo sul mio canale TikTok, sul canale Instagram, sul canale Twitter, insomma ci sono molteplici appuntamenti durante la giornata, grazie mille per l'attenzione, vi lascio alla seconda parte del video. Buon trading a tutti, ciao! Marco e Pio mi chiede, Marco puoi fare Energetica Motors? Non dico che puoi fare come Tesla, è una bella realtà in italiana, cosa ne pensi? Per un'entrata long. Andiamo a vedere Energetica, e non la seguo ragazzi, quindi sto guardando Energetica Motors, eccola qui. Fatemi ricondividere lo schermo per chi mi segue su YouTube e su Facebook, in modo tale da... eccoci qua. Allora, EMC, che cosa sta facendo? Allora, diciamo che ci troviamo in una situazione per EMC importante. Io ci vedo un triangolo, o meglio, ci vedo un, sì, triangolo ascendente, con il prezzo che si è infilato in un canale da, ormai da, dal 30 aprile, e il prezzo, vedete come sta usando la media 200 periodi come resistenza. Quindi il mercato sta provando a far alzare il prezzo, ma non ci riesce. In questo momento torna indietro il prezzo, con la candela del 13 luglio, va approvato a sfondare il muro dei 2,15€, torna indietro a 2,07€, e quindi dal punto di vista, diciamo così, puramente, squisitamente della price action e tecnico, c'è l'impulso rialzista che comanda l'impulso del 17 marzo, ma siamo in una fase molto delicata, perché è una fase di accumulo laterale. Quindi, quando il prezzo accumula, ragazzi, può succedere di tutto, nessuno sa se esploderà a rialzo o a ribasso, ma diciamo che, dal punto di vista tecnico, se rompesse due soglie importanti, la soglia della media 200 periodi, che si trova a 2,13€, e questo triangolo ascendente che ho segnato a 2,15€, se rompe una candela sopra questi valori, accompagnata però, attenzione, dai grandi volumi, allora si può valutare, valutare di ripensare alla questione. Bene, ho visto che mi chiedevate sia su Instagram che su Facebook GBPUSD, quindi la vado a commentare con voi, anche perché non vi nascondo che su GBPUSD siamo dentro, con i ragazzi della Trading Room, l'ho segnalata, e quindi c'è stato l'impulso ribassista che è partito praticamente l'11 giugno e siamo in una fase di ritracciamento. Oggi c'è stata una candela che ha sparato all'indietro, perché il dollaro si è indebolito e il pound si è rafforzato, e ritorniamo vicino alla media 200 periodi. Quindi, io sono short, ne ho parlato anche sulla Trading Room, ho detto come gestire questa posizione, ho detto anche che io valuto di aumentare il lottaggio se si verificano alcune condizioni, e perciò, per ora, rimane, comanda l'impulso ribassista precedente. Siamo in una fase di ritracciamento, se disegniamo Fibonacci, ragazzi, dallo swing high allo swing low, quello che vedo è che siamo leggermente sopra il livello 61,8, ma c'è la media 200 periodi che è importante, quindi il prezzo lì, considerate che il prezzo reagisce sulla media 200 periodi dal 14 aprile, l'ha usato per 3 volte, 4 volte come resistenza, quindi importante. Mi chiedono anche Euro Yen, anche su Euro Yen è un'operazione aperta, ne discutiamo tutti i giorni sulla Trading Room con gli studenti, operazione aperta, e appunto, fatemi cancellare un po' di appunti, si sta comportando come deve, anche qui è l'opposto di GBPUSD del cable, cioè comanda l'impulso rialzista che è partito a maggio, siamo in una fase di ritracciamento, bellissimo ritracciamento che non solo ritraccia dal punto di vista di Fibonacci, quindi ritraccia sul livello 0,50, ma usa come supporto la media 200 periodi. Il prezzo ci ha rimbalzato, si è portato sopra la media 21, io ho aumentato la posizione anche, con i ragazzi nella Trading Room ho dichiarato quando ho aumentato il mio lottaggio, perché? Perché le candele mi stanno mostrando che sta andando dove deve. Staremo a vedere, oggi fa una doci, quindi la mia lettura rimane esattamente come quella di precedente. Allora ragazzi, interrompo di nuovo la condivisione, ripasso qui da Salvatore, che mi dice, secondo te cosa potrà succedere dopo l'appuntamento di fine mese con la Fed? Salvatore non lo so, non prevedo il futuro, non ho la palla di cristallo, non ho la più pallida idea. Io spero che con queste dirette, lo sapete perché faccio queste dirette ragazzi? Perché cerco di trasferirvi qual è la modalità, la routine che un trader o un investitore applica al suo trading plan. Il trader o l'investitore non prevede il futuro. Che diavolo ne so Salvatore cosa succederà dopo l'appuntamento di fine mese con la Fed? Non so cosa dirà la Fed, non so come reagirà il mercato dopo che la Fed ha dichiarato. Come posso fare questo tipo di previsioni? Non le può fare nessuno. Io guardo tutti i giorni i mercati e mi faccio guidare da quello che mi dicono i mercati, tenendo però in considerazione la parte, l'aspetto, definiamolo così, fondamentale. Capito? Importante, questa cosa la dovete capire, soprattutto se mi seguite. Se mi seguite io non sono il trader che prevede il futuro. Se voi pensate che ci siano dei trader che possano prevedere il futuro, seguite loro, io non sono banalmente uno di questi. Io mi faccio trading sulle probabilità, non sulle certezze. Se conoscete qualcuno che fa trading sulle certezze, presentatemelo, ci divento amico e diventerà il mio mentor. Il trader fa trading sulle probabilità. Le probabilità come si costruiscono? Facendo analisi tecnica e analisi fondamentale. E capendo quali sono le opzioni che si possono verificare, per essere velocissimi nel momento in cui una di queste condizioni si applica. Una di queste condizioni si sviluppa sui mercati, ma alla fine del giorno, sapete chi comanda? Sono i mercati, non sono io con quello che penso io, non è quello che pensa l'analista strapagato di Goldman Sachs o qualcun altro che potete leggere su internet. Ha ragione il grafico, perché il grafico che cos'è a tutto sommato? È la rappresentazione visuale di tutti noi investitori. Ragazzi, direi che sono le 2.05, quindi per oggi chiudiamo. Ci andiamo a fare il caffè. Ho visto che qualcuno di voi mi ha chiesto un'analisi sul caffè. Ce la lasciamo per domani. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per questa partecipazione. Vedo che cresciamo sempre di più. Sono contento perché più cresciamo e più sono stimolato ad andare avanti con queste dirette. Grazie ancora per la partecipazione. Come al solito, buon trading a tutti. Ci vediamo domani. Ciao! Ciao!